Ffff 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 Oh vabbè Devo abbassare il volume di questo gioco ragazzi Non sento una serie di su steams Scusate Ffff 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 Grazie a tutti. Sono doppio attivo. 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 Dov'è RPG? Comunque hai visto il mio Twitch? Sono online in sto momento Oddio! Sto soldato l'ho stuprato! Beccami un colpo! Io non sono lì, io non sono lì al piede Tu non sei un pivello Oh mademoiselle In compensa ho fatto un dash e ho caricato 30% di ulti Oh mademoiselle Ci sono tutti in high level questi amici I miei giovani amici Sai che sono live su Twitch e su Youtube? Su Twitch ti sto guardando Ok me ne andrò veramente volentieri sul pack di questa sombra Dimmi a casa, ma ti piace quello che ho scritto sotto? Aspetta che devo guardare Non ci ho fatto caso Hai visto Davide che flage? Sì sì ho visto Ma come cazzo ti fa? Eh ma è boostato Ma sicuramente Ma io non sto spettando veramente Probabilmente Questo è mica il di top 500 C'è se lo scudo Ah 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 Vabbè io quanto l'odio Sto personaggio definitivo del cazzo Hai visto gli altri messaggi? Lui me lo chiama Sphinx Ultimate heal Porco Dio Sei lì cazzo Sei a un chilometro da lei Ti stai per prendere la tua kill con la tua blade dal cazzo E ti riporta indietro Ma ti fa lo spawn Ti riporta Tu hai già usato il dash chiaramente E quindi niente Orisa vaffanculo Però è di merda Ok Oh Oh Cazzo E vado a uscire dall'amica Oh mamma Oh mamma Oh mamma No mamma No mamma No mamma No mamma Oh mamma Oh mamma Oh mamma Oh mamma Spetta un attimo Ho visto Nel piccolo dei piccoli Sì ma questi stavamo speccando da sotto il cartellone Comunque non capisco come funziona sto eroe Pala Sto usando tipo Sia Paladin Uno che ha tipo Per raccogliere anime Raccogliere anime Oh mamma Cosa lancia? Cosa lancia sfere Cosa che vince quando muove Cina Non capisco come funziona la Q Perché a volte mi fa a volte no Cioè boh Allora la Q praticamente Tu attacchi Cioè quando attacchi A fare un numeretto Cioè Dei globi che vuoi attaccare Che belle queste pure Tu più globi ci hanno attaccati Quanto ci massimo 4 Quando premi Q Più danni gli infitti Se fai sua Se fai sua Qui arriva lei E fammi dal gioco Quando premi Q i danni Allora scusi Nooo Bello quando ci muoiono le sombra E' proprio un benessere Sono andato 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 Ho spiegato Non ti c'è una bomba Non ti c'è una bomba È vabbè Sì 그다음에 O Ok It'sь It's time E' il tempo di nascere Moi faccio la nano Tutti vanno vanno sul punto Non è che io faccio la play of the game Perche loro contentono No loro devono scappare tutti dal point enjoy my rip enjoy my rip no, l'ho giocato perché dice che è video uccitta video uccitta fottiti a mente tipo io l'ho guardato e pensando che cazzo fai però c'erano le torette di simmetra che in specifico l'hanno anche ucciso quindi a vota isoka solo per il nome cosa le letti gli altri messaggi che devi inviare? ho letto fino a dove ti ero esposto e poi mi sei scaricato il telefono dove mi hai esposto? su mi pare telegram non mi hai esposto su telegram allora vuol dire che mi sei scaricato mentre ti rispondevo? non ti è arrivato? comunque avevo letto c'è ma... fonti cosa? fonti di quello che mi hai detto? eh... hanno fatto un video ok 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 e quindi poi c'è stato un momento in cui uno ha detto ci sarà il prossimo io ok e loro hanno detto no non non ve lo possiamo spoilerare però che un po' ci trovano delle informazioni e poi ha detto anche tipo quando gli hanno detto sarà Doomfist il prossimo io e Jeff ha risposto si e sarà un cecchino e sarà un cecchino come un cecchino? che spara magia stava prendendo per il culo alla grande dai oddio no ma gli stava tirando tantissimo ci stava tenendo dei yes e Doomfist will be the next hero will be range of heroes with magic stava dicendo cazzate tutto quello che stava venendo in mente da fuck quello è proprio teoriato nooo ho aspettato di nuovo overwatch prima di mettere la musica mi sento male non ti devo uscire fra un po' e che devi uscire? devo andare a comprarmi delle cuffie e anche dal gioco beh vabbè fine capiscimi devo andare a comprarmi delle cuffiette cazzo senza cai il video li ho erati ieri sera e ora sto usando delle fonti di mia sorella non hai che Winston ha messo solo skill oh mademoiselle 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 mhm ma no no miserabile mademoiselle dai Vai che si mette il low, perfetto. Vai. Mi do il low. Andiamo a metterlo. X abbandonato. Sera, Afg. Si vedeva che era Afg. Fai un po' di drink. C'è il tip? Cazzo. Non so dove l'ha messo. Non c'è, non l'ha fatto in tempo a mettere. Eppure ho sentito il suono. Non ho capito. Oddio, devo salvare la clip. No, mi vengono a uccidere. Fatemi salvare le clip. Prego, non uccidetevi. È successo. No, non è per colpa di sto coglione. Non l'ho potuto salvare. Hanno ucciso il McCree della nostra squadra. E' rimasto seduto per terra. Ho preso malissimo il cadavere. Era il mio ultimo da vedere. Sì. 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 Abbiamo Zen? We seriously have Zen? Ok. Ragazzo. Sì. 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 Oh buona tua Zee. Tanto so che mi stanno vedendo attraverso il movie, quindi sto ballando. Viene a ballare Puglia? No, c'è già in Puglia Abbiamo un Winston Sono in giro le torrette di simmetria Ma ti sembra logico? Ma è molto geng Poi niente, ci sono io che gli passo tutto tranquillo La Guido sta da sopra La Guido sta da sopra La Gengu Bella a me Ha spiegato Non so chi li telepasta, sei rotto No, dai che sto fumando Vai, sono GoldenKill Oh, Mad Madan Oh, Madan 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 Ma che cazzo Bello il Winston sul pelo Io voglio quella skin di Winston No, dai curami però Contavo su di te il tuo globo Cazzo Ma sa dovere un po' di decisione Su chi mettere quelle cazzo di cure Oh, cazzo Mi stavo per aggrappare la bombetta Non ce l'ho fatto E l'ho spiegata Mettimi sto globo È morto, come cazzo mi mette il globo? Eh, se me lo metteva prima Ma è morto, cioè questo dove fa? Ah, però mi hai portato davanti Era sul point Sì, ma i globi sto il globo Ma lo zio muore Non so se lo sto Ma appunto me l'avesse messo anche solo prima di morire Così non rimaneva una di vita Ma perché non ci abbiamo un zai? Dai, metti sto cazzo di Discord E dai, chiamo a sti froci Eccolo Cioè, mi hai ricollato in mezzo al drago veramente Santo Dio E se prendessi river? Di quello che vuoi Eh, ma faccio devasto e prendo river Voglio il devasto C'è già lo in cosa? In kill Faccio peggio Oh, Mademoiselle No, cazzo Mi mostro meravissimo E' scappato appena in tempo Robbo, dai, veniamo a ridere Occhio, merci Ogni partito vende a livello, vinciamo LOL, mi vende a ridere Ho fatto una doppia, ancora non mi han curato Muori, coglione Vai, guido E tira la stasun barrier Occhio, merci E' morto, è morto, tranquillo E' ritardato volta E' morto, grazie E' morto, grazie E' morto, morto E' morto, grazie Dov'è? Guarda come me la mangio Diva Ma che cazzo? Che non stava cercando neanche di uccidere me Mi sono fatto di bianco per sbaglio Guarda quanto è tintato Che schifo Dopo un po' porco Dio Bene un po' Usa il mio help Sì, certo E' arrivato il best dealer del mondo Ma che cosa sta succedendo? Boh, siamo stati move Chi è mosso? Chi è mosso? Io per te Ero Ma vado a flanco a qualche parte Chi è mosso io? Chi è mosso? Chi è mosso? ma mettimelo un globo madonna tutti i morti c'è bisogno di cuo c'è una mezza attaccata morta maxi, morta trega viva ci penso io nel caso c'è l'ultimo siamo anche dietro morto vado a posizionarmi perché devo voltare attento non credo mi abbiamo visto sogliete il mercadiva perfetto dove stanno? cazzo ho avuto il diavolo addosso ok adesso eccolo eccolo dai ma come cazzo posso dire che non è ammazzato nessuno? cioè stavamo 42 persone prevedibile nooo la stiamo ammazzando da dove cazzo sono che c'ho bisogno di cure pure io avevo bisogno di cure ma cazzo ehm madmazzar nonononononono wow noooевич Overview and Non è mai stato il giusto Non è mai stato il giusto Si, infatti, meno gore, madonna Oh, ma che voto esigna sta lì Io non l'ho votato Fa' tagare Avrà detto, c'è Winston, lasciamo il globo solo su di lui Oh, vabbè, il fatto 10.54 è fantastico Non prendo il nickname perché mi sono nozze del bastionino Ah, vabbè Fatemela conoscere quella ragazza, non la voglio spiegare Che schifo Oh, mademoiselle Oh, non c'è questo o no? Wow Oh, non c'è questo o no? Oh Jack Oh Madonna ha fatto morire Watch the point to Gibraltar Stavo dicendo la frase in coreano in it's a game Che stanchezza Che dove c'è eh? Quello che ho avuto è Oh Voglio diventare il me e illusi Come secondo il Perché me se non la voglio usare Oddio e il calciaggio di migliore con cui arrancare perché sai che fosse Mercky Mercky Ragazzi vengo in botte con cia Quando Quando ho fatto una partita con Jake mi sa no? Ecco Che è Jake? Ho detto Allora? Ma che cazzo? Solo Messi, il presidente ha 5 punti Però ho un sacco di punti con Messi ovviamente Siamo in 6 Mi pare logico che in 2 non scelgono neanche Dai ma qui c'è 2 di 4 Ok 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 sono qua, sono qua, vieni non ne posso muovere pensavo ci fosse ancora Zegnotta quando sei gol di kill non filli ci ha dato i due coglioni che sono rimasti è l'unico healer acquistato come è io healer? e tu? e tu che non vieni? avevamo zen prima, è entrato Stixmo ma non so, l'ho sentito ma guardate sta merica, prende veramente la healer, porco dio mi sa che ci hanno buttato fuori perchè stanno riorganizzando i canali sto vedendo qualche cambiamento ah, tutti questi ora oh mio dio sta shadow form di merda ma chi l'ha inventato? ma muori ok, non mi prendevo le cose semmai... non mi prendevo le cose guarda papa come mi dico ho fatto la pittazione alla loro video ho visto come prendo il link? come sello link nooo nooo c'è la skin da muratore lì quella è a jet quella è a jet nooo ora mi voglio nooo nooo ehhh it's bad dai peoni, provo a salvarsi fai dietro mentale è sbucata bene dietro un angolo va congelato mia vita era già destinata a finire quel bovetto nel momento in cui l'ho visto e non avevo nessasci nel deflect ma che cazzo da dove l'ha accettato quelli eliti? stanno scappando morto? non pollo non foto non foto ma dov'è? nooo nooo ah deflect buggo ah deflact buggo per cosa? questo deflact di merda sassu nooo nooo pazzia nooo nooo beh nel seguito apposta la stanza ahhhh 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 yan vieni vieni morto e vieni ti vorrei ultare subito eh tranquillamente scendi pronto vai 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 manca sicuramente la mail eccola eccola fatti tutti pulizia fatta e combo sia ehehehe spero che si veda tutti nooooo ma cosa? ma cosa? ma cosa? ma ne ha preso uno di colpo ma cazzo che cazzo vuol dire? di ultime l'ultime è l'ultime vale di più sulla POC di solito no l'ultime vale di meno eppure a me me lo rubano sempre quando fanno le ulti giuro che cazzo vuol dire? fai una quadra con le ultime l'ultime vale di più una quadra senza vale di più quella senza ma vaffanculo ma vaffanculo siete più off the game di merda no ma è giusto davvero mi sono sentito male altro che fat cazzo dico ho fatto una tripla di dragonblaine ho fatti due pulizia uno è morto senza che facessi niente ma è stato bellissimo è che lui prima di di andare mi ha guardato mentre sta voltando e quindi si doveva vedere tutta la scena e infatti no che buffi questi per salvarmi la clip dopo e quindi ora 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 Ciao Tom Ciao 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 Ah che voglia di Proprio voglia di derank aggressivo Voglia di derank Noi ci abbiamo provato a derank però Abbiamo un cuore troppo buono In confronto degli altri Aspetta che ti vedi 30 ore di tordion sul mio smurf Smurf a che livello sta? Un gruppo con te Davide Che Chissà Bebè a miei problemi Cosa stai facendo Jack? Ma basta Io comascolato con la Widow non ho parole Aspettami! 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 La nostra fa cagare al cazzo Guarda se la nera la nostra ti faccia cagare al cazzo Vai subito sul point, ti schildo Anzo super weak Dicks non posso scudarti in fare un cazzo, non posso Niente, c'è sta Widow che mi tromba da lontano Abbiamo due sniper, figurati se qualcuno è in grado di ucciderla Non erano... Occhio mi farei scopare da Widow Ma questo si fa scopare duro proprio Widow scopa duro Ancora sta Widow Dio mio, e cosa cazzo devo fare? No ma dopo quando fate comp vengo su Overwatch Che non mi vale fare quei play Facciamola anche su... E devo deraccare, io sono l'ora di per deraccare Appunto Starotte si fa i seri Zero ma sei con il tuo account nuovo, vero? Ma chi sei? Bravo, farlo sei di livello dai Ma sto triggerando, porco dio C'è sta cazzo di Widow che è una schiappa di merda Non la caga nessuno Anche mia nonna è forte se nessuno mi caga Andiamo dai e... Non mi importa Comunque l'importante è che sali di livello In piano ho già tutti i cecchini, non posso neanche prenderli Mi sto scocciando Bella Bella Adesso cerco su Youtube Overwatch The Rank Simono will ta... ok The Rank Go to The Rank No no, mi consiglia il Rank Se scrivo The Rank Mi consiglia il Rank Mi consiglia Rank So our guys try it to The Rank E' un po' del cazzo Chi è il capo di questo video? Se la può uscire dalla partita Gentilmente E' o magari passami la ride E' il nuovo account? Vero? C'è... Vi a triggerare Quanto pare nessuno sa ammazzare una Widowmaker Dio merda Chi è il capo della partita? Chi è il capo della partita? Sì Chi è il capo della partita? Ah 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 Vero c'è così Ah 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 Volando a Slip Ass di Froci Ah 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 Stiamo facendo più danno e due come healer che il resto del team Si, dove c'è lo faccio sono il resto del team questa è la domanda giusta stiamo ingaggiando solo noi due ma come cazzo si fa il sit e come poter anche lui? io si che ci sono? vado a farmi un tos? o tu dovevi fare da solo zero le frulle che cose? che cosa? i piazzamenti come vuoi fare i piazzamenti zero? non lo so ancora magari 5 a 5 si ma perdili eh boh se giochi bene le perdi non ti verrà anche vediamo fatti il portale ti va a dare per la season voglio farmi ancora gold circa no quando è troppo alto cazzo si è troppo alto troppo basso come chiamo? ecco vabbè che ti piazza 2498 pronto ghost x non farmi guardare il muro ciao ma se un cascato irritated ciao sono ciao siete vai vai Oh aspetta, non scudare che non ci scudo Stavo a farmi un tosse Non so se fai una e anche giù no Go cura, go cura Sopra, background, background C'è la bombetta 48 49 Vai, che torni anche su No Spacco un po' d'oro Non arrivano abbastanza preoccupati Poi dopo mi va davanti Vaffaculo che era uno Ma lol, c'è che ti passa a trovarti già Scappa, scappa Deve allontanarsi se no non ti back Vai a prendere il soldier a destra Uh no, bello, bello, bello Togli da dietro a destra Chirone LOL Dettilo Bombetta, bombetta Nooooo Viste bruttissime Viste bruttissime Tanta bella tirata questa Tira giù Bucky che non poteva Eh, devi trovare il modo di stare a distanza giusto Tanta bella, in realtà il mio scopo è tipo Trovo un attimo di dede Prendila, prendila questo cerco ovviamente come fare un botto di damage non ho capito perché ti sei girato non lo so neanche io ho fatto un movimento stranissimo tipo lo posso prendere no manchiamolo è tipo quello lo sai che se col pugno ti giri puoi fare il pugno e beccare più persone anche quelle dietro di tempo si si ma sai cosa è fatto comunque non è una cosa così scontata da sapere che si tiene un pugno e ti giri becchi tutti che lo facevo quando dopo il jet e io ho visto uno di quei video di leggende metropolitane di overwatch da sfatare comunque hanno sfatato che genji non sicura con gli proiettili deviati di raper io facevo la domanda al contrario se raper si autocurava comunque invece no hanno fatto la domanda se genji si cura deviando i colpi di raper e non si cura prendono assoluti così aspetti il team e poi gli vai da sopra e gli lanciano un betta poi il team muore cosa sono queste merdi barili di birra si bevi e poi il tracer non ha non ha fisico si gioca subito e poi ti vedo andare storta nel tempo qua sotto a destra si sono a destra uuuu dai ma c'è qualcuno che li sta distraendo quanto è bello risalire le cose andando indietro nel tempo si quello è veramente su pelle però pacco se le calcoli un pello male che tipo arrivi lì e cadi come una pera muore 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 comunque muore non è capace infatti l'ulti bravo windable com'è che è morta ah da una freccia una volta a berzi a berzi che scipta su qualcuno no ma zio non è possibile ma tu tosta ma non capisco oggi non è giornata boh non sono mai stato bravo a tirare le ulti però poi ormai tosta uh dentro il drago ti sei ritrovato aspetta no no era cosa con la bolla l'agone vai vai la versi se sei full non ti uccide nemm si si mi uccide anche se sei full non penso 155 se nel caso r call secondo me sopravvivi si ma non riesco mai a fare oh fa lo shot perfetto ma non penso il nerf sia quello si ma non non Bro ha cambiato il target eccolo qua qualunque uf qua servirebbe le colla qua servirebbe che chi non Niente sparati a casa i missili Adesso me la butti a casa o quinta Io solo l'ho lanciato a occhio chiuso Vediamo cosa succede Aspetta Vai Lì sul carico Arrivano, 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 arrivano anche gli altri infatti Uh bravo Uff L'ha presa il ciccione no Dai Vabbè 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 che merda costi versene in faccia ma Jack di rank? si eh io Stix mi sa che vado di rankare io si penso a rankare con i dps poi stasera prendiamo i seri ehi mi sa che dopo vi faccio una rank fa un'ottima beh così si gioca a bronzo bisogna andare a bronzo ragazzi beh io stavo per raggiungere i 2400 poi abbiamo vinciato un po' a vinciare ma boh anche a 2004 ci si perde no no bronzo o vuoi fare arriviamo a 2000 e poi da 2000 rankiamo a 3000 no arriviamo a 1000 ma non ce la fai secondo me Overwatch ti blocca la derankata dice? secondo me si però bisogna provarci usate te ce l'hai un controllo? no me lo stavo per prendere tra un paio di mesi me lo prendo vabbè basta che uno faccia io prendo il controllo e cerco di fare il mio meglio dai loga io prendo solo se ho sombra si eh boh voglio vedere cosa mi dice overpass della mia sombra in comp allora dj jazz oh 0 perchè entra nel gruppo? vediamo 0 oh sono top 1 per cento mp top 1 per cento enemy hacked top 1 per cento solo kill top 1 per cento objective kills top 1 per cento eliminazioni top 1 per cento eliminazioni ah ma era maciolata siamo in competitive ah che voglia cambia un po' la sitra oh mamma o quando torno da oggi a casa jack ti voglio trovare almeno a gold eh dai ma guarda che è difficile non so che è difficile più farsi da rankare che rankare perchè ti da rank solo quando vuoi rankare così che funzioni oh oh arriviamo ad altre pila e così pesca comunque 0 a te che punto seguono i livelli? vai dal 15 io buono continua dai oggi gioco tutto il giorno o lo faccio il 25 più o meno dai fallo dai dai che si deve giocare al rank basso che si diverte l'unica merda che oggi devo uscire perchè usando le cuffiette di mia sorella e devo andare a compriarmi un paio lol ah sorella il boss god rag perchè tu non sai usare la sorella devi farteli comprare dalla sorella eh si hai i soldi metterla più piccola di me assoluto bottive in più per sfruttarla eh non si fa sfruttare ma invece che gli compri una bottiglia di perra vedi come si sfrutta eh gli fa cagare cioè piuttosto pensa si fumerebbe una canna eh agli dagli quella gli fa cagare l'alcol dai e basta che ti fa prenderne come vuole vuoi farle cagare l'erba adesso? non mi fa cagare l'erba ma l'hai provata e non ti piace? ho fumato tantissimo nella mia vita senti la patata hai fumato un sacco di copertore ho fumato tanto la vita ho fumato fino ai venti fino a ventidue anni tipo fumavo non non regolarmente potrissi faccio il mio hijack oramai che l'hai certo i nostri Poi ho smesso perchè... volevo avere capacità di pensiero che non avevo quando fumavo Ho preso delle di in testa Eh, perdi certe capacità di pensiero ma ne guadagni altre Cioè, volevo lavorare e sapere i che mi dicevano C'era bisogno di concentrazioni Sono primo in danno Eh sì, c'ho tutt'oro tranne il danno, giuro C'è la geometria di Ogana Penso che io facevo stare sulle case da storo Io prendo Lucio Lucio, ma guarda che è impossibile arrancare con Lucio Prendi Ana e non curare Prendi... Mercy No, prendo Lucio e solo Speedboost Boh, dai No, via, ogni tanto cambio Ci provo, dai Intanto faccio schifo con Lucio Quindi è come trovare Nooo, stai andando rimasto male Ci ha chi, voglio sentire... Ma dai, gliel'ho tirato nei coglioni, gliel'ho tirato Si, lo ultimo Oh my god, le palle gli hanno tirato, non l'ha ucciso. Se avessi avuto un nano busto. Nano busto? Nano busto, dai. Ma non ce l'ha ancora? Sì ce l'ha. Ho pensato che con Guido o prendo la percentuale di mira schifosissima o vinco. Quindi vado di Anzo. Questa tessera è scarsissima, raga. Se poi vinciamo anche con Anzo, ragazzi. C'è un piccolo problema. Oddio ce l'ha con me. Ciao, io te lo provo, lazzo. Ciao. Io giuro, dopo che ho visto quel runner ieri sera mi è venuta troppo voglia di andare a bronzo. Perché? Ieri sera abbiamo guardato uno streaming e ti giuro che... Un'altra tipa che stava facendo road to 500 SR. Non aveva salita nel senso. Com'era? Vero sotto il 500? Sì. Ma era gente che è talmente nabba che non riusciva a arrivare al 500? Ma zio hanno conquistato il point all'Urbani, c'era Rennard che difendeva. Sì, quello era che malto. Sì, quello era... Hai fatto schianta a tutti. Ma è che malto il ciocchio, è stato bellissimo. Le vere risate, cazzo. Va bene come inizio, Jack. Per il The Rank. Ma io vado a mano Anzo per il The Rank. Poi va a finire che mi cario. Eh sì, anch'io sono Anzo. Però ho fatto fare già il 25% al Junkerat avversario. Sono bravo. Benchia, ma una cura ogni tanto, porco Dio. Anna, uno shot. Ce l'hai i soldi? Non la paghi o non ti cura, eh? Dio, non è capace a farsi neanche una Tracer, mamma mia che nabbo. Sorry, Jack. Sto distruggendo anche le trappole, sono troppo bravo. Figo il TS, così. Va bene. Eh, hai visto? L'ho fatto io, ti piace? Sì. Madonna. Madonna mia. Oh, Stix, però usa i canali sui. Vai su... Andate su Overwatch a giocare, non state più sega. No, vi picchio. Ho appena fatto caso adesso che ve lo separate, però ci sta. Che fate? Overwatch lo voleva mettere più giù, però vedete, poi è peccato. Sì. Niente, io sto scaricando l'Everwinter. Tu? Ok, niente. Ma finisci di vincare i tuoi steaming? Aspetta, aspetta, adesso c'è anche su YouTube. Addirittura? Sì. Ah, contemporaneamente? Sì. Ho deciso, ma che a caso. Spostatevi di canale sotto Overwatch. We can do this. Channel switched. User joined your channel. No, no, no. Oh, no, no, no. Ha fatto un po' meglio, finalmente. Aspx? Cosa? Hanno fatto un po' meglio il TS. Sì. Scor, questa è vero. Ma da come mi diverto? Ma che faccio su ci sono? Io non c'ho un cazzo. E se li attiltavi come un ilty? Oddio. Infatti oggi se mi senti attiltare troppo mi spiace. Eh, a me no. Io ne so. Io ne so. Se non più devo uscire, devo spendere i soldi per le cuffiette. Sono un po' bello. Erivo a pagare il cinque. Ah, cazzo. Erivo a pagare il ciò. Oh, cazzo. Ma io perchè li push aspettandomi che Anna mi riesca a tirare una cura, perchè? La domanda è perchè li pushi più del necessario No no ma erano lì davanti a noi eh, semplicemente li ho lasciato in mezzo Ah, le granate bug di McTee, ok Dai fammi vedere un po' cosa cazzo stai trollando C'è Zero ma è possibile che ti vedo sempre troware game? Si è possibile, la secco Sei un trower Scusi ma tu che su code tu lanciavi lascio No cos'è che ci avevi come arma da lancio? Cosa? Cos'è che ci avevi come arma da lancio su code? Era il Tomawak, ne? Anche il balistico lì come cazzo si chiamava in quelli vecchi Coltello balistico Coltello balistico io lo sapevo per animare da 100 E' vero è vero funzionava Mi sembra chiaro che Winston lo puscio io Questa volta Guarda mamma come mi diverto Quest'ora oltre che non curarmi non ha tirato un nano boost in tutta la partita Ricollezionava per la prossima partita Questa è scema, ferma Ok? Ma a parte questo che E mentre ti trovi la partita con i trower Non so non usi l'ulti Cazzo di collezionatori di ultimate E mentre te ne metti via 10 La partita dopo anche se ti trovi i trower tu c'hai 10 ultra già pronte Mi si erano fuori staccate le cuffie Però penso se fanno un personaggio Che ha l'ulti in tre fasi L'ulti in tre fasi? In che senso? E che la puoi caricare tre volte l'ulti Che lo facciano su Genji Tre Dragonblade mi pare corretto No no ma sai fanno un nuovo hero con un ulti Che la puoi usare in tre momenti diversi o tutt'assieme O due in un momento e uno in un altro Per dire Un ulti da tre colpi tipo Come dire, si Anche sai un ulti di support per esempio Ah, hai detto la biografia che mi son messo sotto il canale di Twitch? Si, qua dio che ridere C'è stata una cosa che mi ha fatto troppo ridere Che cosa? Chiarò di Rileggio Non so cosa mi ha fatto ridere Ah, questa è una cosa che mi ha fatto ridere Sei anderti in tre fasi e poi la rega Sulla dimensione Non so cosa mi ha fatto ridere Ah, è una cosa che mi ha fatto ridere la voglia di uscire da questa casa è tanta in questo momento cioè non devi trollare ma chi è trollare l'ultima volta che ho trollato un game fu negli anni 90 su playstation 4 è il troll bisogna farlo con precisione con eleganza o la va o la spacca o la spacca stasera devo arrancare o mi da arranca sto tornando merdè sto tornando merdè mia miseria entro stasera master master no però 3 a 2 50 big diamond se va bene eh ma finchè non arrivi a master non ti si sbaccano le skill speciali sto tornando merdè fatemi passare vado a comandare o mademoiselle mi hanno rubato ganji abbiamo 5 di piazza mademoiselle e anche questa boscaia è la mia classica ma non c'è solo questa praticamente qua c'è il thrower stix si si ma sono io con scaia c'è sempre il thrower hello ti ha piccato anzo almeno eh eh i 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 di mattimba mattimba fatto il sangu non escegno non escegno avicino il avicino il avicino non no 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 asurons metti un chai stick dicono che sono qui sai se che le suostate con fai sono impressionanti di come puoi giocare e far e non veramente fai te chi ti ha fatto oi Grazie a tutti Oh no, sto contendendo con uno di vita Guarda questo, con lo smartphone si chiama Farmer Sì, provo o no? Full Sky Unfame, te lo ho detto, Full Sky è una mappa di mezzo Un'altra cosa? Un'altra cosa? Un'altra cosa? Un'altra cosa? Non c'è nessuno che c'è questo, che c'è? ooooh, che c'è il mazzan Quante volte mi capita che sono 1? Non c'è nessuno, non c'è nessuno. I ammichonci E' una colpa L'euro 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 no Alfa, benzo, morse Oh, mia D.Va che salva mechiri Che porco, non mi chiedo io Ok, ora possiamo andare Oh, mia Dio Cosa ho fatto di male io Oh, mia Dio Oh, mia Dio Oh, mia Dio Oh, mia Dio Fine, fine Cosa mi piz? No Ah, quittiamo Vediamo un po' Sticks Per uscire Sticks Gli altri sono rimasti in tutti i siti di canale Non ho ascoltato nessuno Oh, hai detto di andare sotto perché il canale è fatto apposta Sì, hanno cambiato il canale apposta Ah, allora aveva capito giusto Biro, che lo stava dicendo Però non scendono No, io dico più caldo per Stix che resta da solo Che me ne sto andando Devo andare a comprarmi le cuffiette Comunque ho fatto il 30% del danno Ma sì, ma va di non cagare No, ma era finito, ma va di non cagare Anzo main Che palle, spero che troverò delle cuffiette a buono prezzo Io so già che se codo rank e due mi trollano Allora, good mercy Allora, epic mercy Devo aspettare che scende l'anti 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 troll della Blizzard Vai all'ospedale a farti l'anti tetanica Sontana sono flaggato Ormai devo aspettare almeno due settimane Sono flaggato, percoddio Cioè, dai, non è possibile Chiedi anche a Stix Chiedi anche a Stix, abbiamo fatto i game E solo troll No, qualcuno di voi Sassala Manor vendono di quelle cuffiette Tipo dell'iPhone Ma quelle tarocche Costa un poco Che palle Spero di trovare delle cuffiette Sennò stasera c'è da litigare con mia sorella Per farmi tenere queste Dai, vado a farmi la doccia Sì Mi guarda un po' Stix intanto Stix, ti lascio mentre faccio la doccia Sei contento? Ti ascolto Sì Viene a guardarmi anche tu, Marco Eh, non lo so Facemi dicatemi una cosa Che non ha capito che cos'è Cioè, un gruppo Non l'ho capito Manca la tipa di sascia Manca la tipa di sascia Sì Dobbiamo fare vente Non normal Bho Siamo Dai Noi uscite fino a 3.020 No, full troll Cazzo Come pagare Ma Sì Devo farmi una volta Sì Assunto Cosa? Sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.